è un vero piacere essere con voi questa sera per salutarvi non ci sono fisicamente ma ci sono col cuore in occasione della festa della donna e mi voglio congratulare davvero tanto per la vostra iniziativa la raccolta fondi che fate il recupero della lana in italia e la promozione del lavoro a maglia sia negli ospedali che nei centri di cura voglio salutare una persona che lì tra di voi che è donella bossi pucci che è un'amica e che ringrazio per l'invito sono tempi difficili questi e quelli come voi che tengono viva la speranza sono importantissimi la mia vita da sportiva mi ha insegnato a non demordere ad andare avanti sempre ad avere pazienza insistere nelle difficoltà e questo mi ha dato sempre tanta forza ed è quello che che dobbiamo fare tutti assieme in questi momenti il mondo ha bisogno di persone generose ma vere mi sarebbe piaciuto tanto essere lì con voi ed aiutare e sostenere il progetto di gomitolo rosa se esistessero le olimpiadi della solidarietà ci sarebbe sicuramente un posto sul podio per la vostra associazione un abbraccio caloroso a tutti e buona serata e alla prossima ciao